Il sostituto procuratore Marco Gaeta ha dato 60 giorni di tempo ai consulenti per consegnare le loro relazioni. Il magistrato ha affidato l'incarico di effettuare le autopsie all'anatomo patologo Costantino Cialella dell'Università La Sapienza di Roma e a Pierluigi Bontempo, il medico legale di Sernia, che ha effettuato i primi rilievi nella pineta di Valle Soda, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di Giuseppe Del Riccio e Franca Iaciofano. Agli esami autoptici che si sono tenuti all'obitorio del Veneziale ha assistito anche il consulente di parte nominato dalla famiglia della donna, il medico esernino Eugenio Petescia. L'avvocato della famiglia Del Riccio, Gabriele Melogli, almeno per ora preferisce non sbilanciarsi, ma sembra escludere l'ipotesi di un gesto premeditato da parte del sessantenne di Macchia, così come lasciano supporre i primi riscontri investigativi. Perché sono tenuti al segreto professionale. Non so in base a quali elementi possiate dire che si tratta di un gesto premeditato. I periti che dovranno stabilire, tra le altre cose, quali sono le cause della morte e quali sono le modalità del tragico evento. È credibile quindi l'ipotesi dell'omicidio-suicidio? Ma su questo dovranno rispondere proprio i periti, quindi noi non possiamo anticipare assolutamente nulla. Non si sbilanciano nemmeno Sandro e Angelo Cutone, avvocati di fiducia della famiglia Iaciofano. Aspettano di vedere le carte prima di fare delle valutazioni. Del resto non tutto è chiaro in questa storia. I familiari vogliono la verità su che cosa sia accaduto quella notte, quel giorno. Poi per quanto riguarda le risposte, tutti gli interrogativi ce le dovranno fornire i periti nominati questa mattina dalla procura. Sulle cause del decesso, l'orario e in effetti, anche perché uno dei quesiti particolari è quello inerente, da che distanza evidentemente sono stati attinti i due cadaveri. Nei prossimi giorni vedremo quali sono gli atti che potremo acquisire e vediamo un attimino anche se dobbiamo fare delle indagini difensive in qualità di legale. Nulla però lasciava presagire un allontanamento volontario da parte della Iaciofano e così? A quanto pare i familiari mi hanno detto che quel giorno la mamma era tranquilla anche perché a quanto pare abbia anche interloquito, dialogato con i figli. Per cui crediamo che non si sarebbe mai aspettato una tragedia simile. I familiari erano al corrente di questa storia? Qualcuno sì, credo.